Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial In questo nuovo video vi spiego come aggiornare Windows Update e scadicare questo strumento di rimozione malware di Windows 64 bit in questo caso questo strumento di rimozione c'è tutto qua sotto dettagli come potete vedere la nuova versione l'hanno appena rilasciata 3 giorni fa e ti consente di proteggere i computer Windows Stai malware più frequenti tipo come lo SRM che individua e rimuove le minacce quindi in questo caso se avete problemi a scaricare questo aggiornamento vi consiglio di andare in descrizione e vi ho lasciato un link quindi cliccate su quel link e vi porterà su questa pagina e voi scaricate questo strumento di rimozione malware lo scaricate e lo installate io ovviamente già l'avevo scaricato su Windows Update come potete vedere fare gli aggiornamenti su Windows 11 è molto importante se no qua rimaniamo sempre indietro quindi ho appena fatto questo aggiornamento quindi devo solamente installare tutto e riavviare il PC e così facendo avrò questo nuovo strumento di rimozione malware quindi ti permetterà di rimuovere qualsiasi minaccia pericolosa che scarichi sul tuo sistema operativo quindi ragazzi il video finisce qui una breve guida su Windows Update se questo video vi è stato utilissimo vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella di lasciare un like per i prossimi tutorial quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao